Buonasera, ben ritrovati con l'informazione su Telefriuli. Apriamo con i numeri relativi ai positivi al coronavirus in Telefriuli Venezia Giulia. Sono 1480 i casi accertati positivi con un incremento di 44 unità rispetto a ieri. I guariti in totale sono 84, mentre i clinicamente guariti, cioè persone senza più sintomi ma non ancora negativi al tampone, sono 157. Sono 11 decessi in più rispetto alla comunicazione di ieri che portano a 98 il numero complessivo di morti da Covid-19. Il dato più alto è quello registrato nell'area di Trieste con 54 decessi seguiti da Udine 30, Porderone 12 e Gorizia 2. A comunicarlo il vicegovernatore con delega la salute e protezione civile Riccardo Riccardi dalla sede di Palmanova. Sono 61, due in più di ieri le persone che attualmente si trovano in terapia intensiva, mentre i pazienti ricoverati in altri reparti risultano essere 236. Oggi si è registrata la sedicesima vittima nella casa di riposo di Mortegliano, una donna 94enne originaria di Talmassons. Il governo ieri sera ha emanato un nuovo DPCM che destinerà 4,3 milioni di fondi di solidarietà ai comuni in anticipo rispetto alla scadenza di maggio. Nell'ultime ore inoltre è stata firmata un'ordinanza della protezione civile che porterà altri 400 milioni di euro alle 8 mila amministrazioni, fondi che saranno da destinare alle persone bisognose. Oggi vogliamo dare anche il segno della presenza concreta dello Stato. L'ho detto nei giorni scorsi, lo Stato c'è. Coinvolgiamo i comuni, i sindaci. I sindaci sono le nostre sentinelle. Allora ci affidiamo all'oro. Disponiamo appena firmato un DPCM che dispone, all'oro giriamo la somma di 4,3 miliardi a valere sul fondo di solidarietà comunale. Un anticipo del 66% che giriamo ai comuni. Lo facciamo in anticipo rispetto alla scadenza che era prevista a maggio. Con una ordinanza della protezione civile noi aggiungiamo a questo fondo 400 milioni. Questi 400 milioni è un ulteriore anticipo che destiniamo ai comuni con il vincolo, il vincolo di utilizzare queste somme per le persone che non hanno i soldi per fare la spesa. Quindi da questi 400 milioni che verranno distribuiti da tutti gli 8 mila comuni del nostro territorio nasceranno dei buoni spesa, delle possibilità di erogare da parte dei comuni dei generi di prima necessità, generi alimentari, con la catena anche della solidarietà, servizi civili e tutta la catena del volontariato del terzo settore. Noi confidiamo quindi che già dall'inizio della settimana prossima i sindaci siano nella condizione, attraverso servizi sociali, associazioni di volontariato del terzo settore, di erogare concretamente questi buoni spesa o anche di consegnare direttamente generi di errati alimentari alle persone bisognose. E come vengono ripartiti 400 milioni di euro per l'emergenza ai comuni? In quest'ora è stato chiesto alla Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Regioni Autonomi delle osservazioni in relazione allo schema di ordinanza di protezione civile appunto per l'anticipazione del fondo di solidarietà. Al momento le destinazioni che vanno vagliate dai comuni tramite i servizi sociali degli stessi comuni che relazioneranno poi alla Regione, i fondi si basano sul numero degli abitanti del Comune per gli ex capoluoghi di provincia. Per esempio a Gorizia 34 mila abitanti andranno 182 mila euro, Pordenone 51 mila abitanti andranno 272 mila euro, Udine 99 mila abitanti 526 mila euro, Trieste 204 mila abitanti 1 milione e 78 mila euro. L'Anci del Friuli Venezia Giulia boccia senza appello il nuovo decreto Conte, a parlare il Presidente Dorino Favot, dai 400 milioni alla nostra Regione sono destinati 7 milioni ovvero 6 euro a cittadino, ascoltiamolo. Il provvedimento di Conte di ieri sera ha lasciato letteralmente perplessi Anci Friuli Venezia Giulia per una serie di motivazioni. La prima perché viene detto che viene distribuito un fondo di 4 miliardi e 300 milioni ai comuni, ma in realtà è un fondo che è già previsto nelle norme e che è dovuto. Quindi è una semplice anticipazione per tutto ciò che riguarda il sistema dei comuni extra Triuli Venezia Giulia. Il fondo aggiuntivo poi dei 400 milioni in realtà costituisce una cifra che si può definire assolutamente risibile. Se pensiamo che di questi 7 milioni vengono dati al sistema del Friuli Venezia Giulia, in pratica sono pari a circa meno di 6 euro a testa per abitante. Vi lascio solo immaginare che spesa si riesca a fare con quella cifra così bassa. Nello stesso tempo come Anci Friuli Venezia Giulia non posso non sottolineare l'inopportunità della presa di posizione da parte del Presidente nazionale Anci De Caro perché in questa situazione di emergenza che va a toccare tutti i territori avrebbero dovuto, avrebbe dovuto come minimo chiedere un parere alle Anci regionali se non altro per capire dove si andava a parare con questi tipi di provvedimenti che oggi come oggi appaiono veramente provvedimenti di scarsissimo rilievo. Alcuni sindaci non ci stanno e hanno reso pubblica sui social le loro decisioni. Questa mattina i primi cittadini di Monfalcone, Cisinte, San Daniele, Valent, il sindaco anche di Pordenone, Alessandro Ciriani, ieri sera si era sfogato su Facebook contro le misure annunciate dal Premier Conte, dal Ministro Gualtieri e dal Presidente dell'Anci De Caro. La Regione vuole dialogare con i sindaci attraverso una serie di incontri settimanali di modo da avere un contatto diretto e tenere informati i primi cittadini in maniera trasparente sull'evolversi della situazione legata al coronavirus e capire quali sono le problematiche dei singoli territori. A spiegarlo il Vice Governatore della Regione Riccardo Riccardi nel corso delle riunioni in videoconferenza con i componenti dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Agro Aquileiese e Carso Giuliano durante le quali è evidenziato che lo sforzo compiuto dalla Regione dal suo sistema sanitario ha permesso di far sì che oggi la disponibilità delle nostre terapie intensive abbia raggiunto i 74 posti. Letto, entro la prossima settimana, grazie all'organizzazione di tutto il sistema, arriveremo a un centinaio. In merito ai tamponi per la positività al Covid-19, il sistema sanitario regionale è in grado di restituire 1500 esiti al giorno, ma effettuare tale analisi su tutta la popolazione non è una soluzione praticabile perché si ha una garanzia di affidabilità solo se viene ripetuto ogni 48 ore, ha chiarito Riccardi. Continueremo quindi ad attenerci alle indicazioni del Ministero della Salute e a effettuare i tamponi solo in caso di soggetti con sintomi della malattia o persone che hanno avuto relazione con persone malate. Sui dispositivi di protezione individuale, a partire dalle mascherine, il Vice Governatore ha confermato che dobbiamo garantire la sicurezza del personale sanitario e socio-sanitario, stiamo compiendo uno sforzo rilevante, in tal senso la richiesta di mascherine del Paese è di 90 milioni di pezzi al mese, ma reperirle non è semplice. Quindi la Regione sta lavorando per garantire l'apprivagionamento di tutte le strutture del Friuli Venezia Giulia. Intanto il Governatore della Regione, Massimiliano Fedriga, ha inviato in queste ore quattro missive indirizzate agli ambasciatori in Italia, di Cina, Stati Uniti, Israele e Federazione Russa chiedendo aiuto per trovare contatti con aziende che si rendano disponibili ad allacciare rapporti commerciali per la fornitura di materiale sanitario. Nella mia posizione, dice il Presidente, metto in campo qualsiasi risorsa materiale e immateriale per tutelare la mia Regione in caso di peggioramento della situazione. Inizia il conto alla rovescia per le domande per usufruire della prestazione in denità 600 euro che potranno essere presentate a partire dal 1 aprile 2020. Mentre le aziende hanno già potuto avviare le richieste per la Cassa Integrazione è iniziato il conto alla rovescia per le domande per usufruire della prestazione in denità 600 euro che potranno essere presentate a partire dal 1 aprile 2020. Il bonus spetta a chi nell'anno di imposta 2018 ha percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Se ha avuto un reddito compreso tra 35.000 e 50.000 euro, deve avere cessato, sospeso o ridotto l'attività autonoma o libro professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Il nuovo provvedimento allarga la platea ai libri professionisti con partita IVA attiva dalla data del 23 febbraio 2020, inclusi i lavoratori che partecipano a studi associati o società semplici. I collaboratori coordinati e continuativi che abbiano un rapporto attivo dal 23 febbraio 2020 e siano iscritti alla gestione separata dell'Inps. Tali lavoratori devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e sprovvisti di altre forme di previdenza obbligatoria. Oltre ai libri professionisti, con partita IVA e ai collaboratori, l'indenità si rivolge anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali del Lago, l'Associazione Generale Obbligatorie, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali il cui rapporto di lavoro è stato cessato in modo non volontario nel periodo dal 1 gennaio 2019 al 17 marzo 2020. Gli operatori agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate di lavoro agricolo dipendente nel 2020. Lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo pensioni spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e reddito inferiore a 50.000 euro. Per tutti i lavoratori l'effettuazione della domanda seguirà un iter partendo dal portale online dell'Inps e potrà ottenere il PIN dispositivo tramite sms. E continuano le denunce. Stava facendo jogging sulla strada e ha redatto e sottoscritto un'autocertificazione fornendo false generalità circa la propria identità personale. L'uomo a 45 anni è stato sanzionato amministrativamente ai sensi delle nuove disposizioni per il contenimento della pandemia dai carabinieri della stazione di Campoformi. D'ora andiamo a Udine perché partirà domani la distribuzione delle mascherine. Udine ci spiega le modalità di consegna al primo cittadino Fontanini. Sono arrivate le mascherine anche per la città di Udine. Domani lunedì inizieremo la distribuzione. Abbiamo scelto un criterio particolare per distribuirle. Privilegiare le persone anziane. Quindi abbiamo suddiviso la città in base a un indice di anzianità. Inizieremo in pratica dalla zona di Paderno Chiavris dove c'è un numero significativo di persone anziane e la protezione civile consegnerà due mascherine per ogni nucleo familiare. Non sono chiaramente tutte. La distribuzione comincia domani ma andrà avanti anche nei giorni successivi. Tra l'altro stiamo aspettando mascherine anche dalla Cina perché la città di Simì ci ha promesso, in segno di solidarietà con Udine, di inviarci almeno 10.000 mascherine per la protezione contro questo virus. Quindi iniziamo la distribuzione. Daremo in pratica alle persone anziane la possibilità di potersi difendere da questo terribile virus. Diciamo anche che la situazione in città è abbastanza buona. Non c'è un numero elevato di persone che abbiano contratto il virus. Quindi bravi, continuate così, restiamo in casa. Non usciamo, usciamo solo se c'è estrema necessità e quindi continuiamo in questo modo, sconfiggeremo questo terribile virus. L'Arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzocato, afficciato questa mattina nella Basilica delle Grazie a Udine alla Santa Messa in occasione della Quinta Domenica di Quaresima. Ecco un estratto dell'Omelia nella quale tocca anche il tema coronavirus. Penso che tocchino il cuore di tutti le immagini che ci lasciano un senso di amare in potenza le immagini di quelle bare anonime che vengono da lontano con i camion militari per la cremazione. ci sentiamo impotenti più ancora che contro il virus. Però vedete la parola del Signore ci fa dire non è quello il loro ultimo destino non è quello l'ultimo destino dei nostri fratelli e sorelle perché sono attesi dall'abbraccio misericordioso di Gesù noi crediamo che Gesù è più potente del coronavirus e abbraccio anche i nostri cari che ci vengono tolti li accoglie nella sua vita di risurrezione proprio là dove c'è Maria la preiamo perché è con Gesù in quella vita di risurrezione Giuseppe e tutta la comunità dei Santi Siamo in chiusura l'informazione ritornerà nella notte grazie per l'attenzione e buona serata su Telefriuli Grazie a tutti